Buongiorno, sono Jean-Baptiste Lamarck, naturalista nato a Parigi nel 1744. Io sono stato il primo a elaborare la teoria dell'evoluzione degli organismi viventi. Ma qualcosa non ha funzionato. Il collo delle giraffe, come io ho scritto, è diventato lungo per raggiungere i rami più alti. E questa era la mia teoria. Le giraffe volevano raggiungere i rami più alti. E così, per me, anche l'ursus arctus, comunemente noto come orso bruno, è diventato blanc per la forte volontà dei singoli orsi di mimetizzarsi con l'ambiente circostante. Eh, ma ahimè, in realtà la volontà della singola specie non basta per l'evoluzione. E allora lo sapete veramente perché l'orso di fronte a voi è diventato bianco? I suoi antenati avevano il pelo castano bruno, con diverse sfumature. E quando si spostarono in un ambiente arctico, solo gli orsi dal pelo più chiaro riuscirono a cacciare con successo, perché il loro colore più chiaro li rendeva meno visibili alle prede. Si mimetizzavano meglio. E nel corso degli anni gli orsi dal pelo chiaro sopravvissero. E quelli dal pelo più scuro non sopravvissero più. E non si videro più orsi bruni nella zona. E in definitiva, il mio collega Charles Darwin aveva ragione. L'evoluzione delle specie viventi avviene per selezione naturale. Ma sono orgoglioso di essere stato il primo ad avere espresso il concerto di evoluzione e di averlo lasciato a tutti i miei successori brillanti come Charles Darwin. Au revoir mes amis.